Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Rinviato al 21 settembre l'avvio delle lezioni al liceo scientifico Torelli dopo la rimozione dell'amianto occorre sanificare gli ambienti scolastici Nuovo look per il porto di Fano ecco che cosa verrà realizzato entro il 2020 Ambito sociale 6 l'assessore Barnesi difende l'operato dell'amministrazione ma i grillini portano il caso in Parlamento e accusano la responsabilità è della politica L'acqua pubblica mette d'accordo tutti il Consiglio Comunale vota all'unanimità l'ordine del giorno della maggioranza e approva il nuovo regolamento Isee nel 2016 al via i lavori per il parco urbano Seconda giornata per il Festival del Brodetto con sfide tra chef internazionali e un convegno sul futuro della pesca Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale Come avete sentito poco fa lunedì prossimo gli studenti del Santa Marta non saranno gli unici a non cominciare la scuola perché a causa della rimozione dell'amianto anche gli studenti del Liceo Scientifico Torrelli di Fano dovranno attendere il 21 settembre per tornare sui banchi di scuola Apertura posticipata al Liceo Scientifico Torrelli di Fano dovuta ai lavori per il miglioramento sismico e per la bonifica di amianto diretti dalla provincia di Pesore Urbino proprietaria dell'edificio scolastico interventi iniziati nello scorso mese di giugno e monitorati anche dalla dirigenza dell'istituto che preoccupata per la tempistica ha più volte inviato segnalazioni e sollecitazioni di recente poi ha verificato che gli operai avrebbero potuto lasciare il cantiere interno solo poco prima dell'inizio delle elezioni per questo la dirigenza ha deciso di convocare per mercoledì 10 settembre una riunione urgente con i rappresentanti del Liceo l'ufficio scolastico territoriale la provincia, il comune, l'Asur e la ditta paltatrice in questo incontro si è ritenuto opportuno eseguire opere di polizia straordinaria di sanificazione e di verifica delle condizioni igienico-sanitarie per consentirlo il sindaco di Fano Massimo Seri ha emesso un'ordinanza con la quale si vieta l'uso temporaneo dei locali fino al 20 settembre prossimo e quindi gli studenti torneranno sui banchi di scuola la settimana successiva insieme ad Arpan faremo anche se non è previsto per legge ma perché lì ci sono gli studenti io non voglio un minimo di dubbio e un minimo di preoccupazione che gli alunni, gli insegnanti e gli elettori abbiano quindi in questi due giorni faremo anche un'analisi da parte di Arma per verificare se ci fossero dei residui che abbiano a che fare con l'amianto anche se problemi non ce ne sono però vogliamo essere sicuri non al 100% al 200% allora abbiamo procrastinato di qualche giorno l'apertura della scuola perché vogliamo essere garantisti perché parliamo di studenti sono i nostri giovani non vogliamo avere preoccupazione domani rimproverarci qualcosa quindi è un provvedimento che va nell'interesse degli studenti questo è stato apprezzato e anche richiesto dal preside professor Giombi quindi questa è la ragione per cui è tutto a posto anzi devo ringraziare la provincia per il buon lavoro che hanno fatto per le risorse che sono state destinate per la nostra città e vediamo invece dove sono state collocate le 46 classi dell'istituto alberghiero Santa Marta visto che appunto questo istituto è stato dichiarato inagibile dopo il crollo di alcune parti del soffitto dunque 9 classi seconde saranno spostate nella parrocchia San Carlo Borromeo in via Carnevale a Pesaro con inizio delle lezioni previsto per il 5 ottobre 7 classi quinte invece nella sede dell'ex Abramante Largo Aldomoro a Pesaro e inizieranno sempre il 5 ottobre 6 classi sono state collocate nella sede di Pesaro Studi in Viale Trieste con regolare avvio dell'anno scolastico lunedì 14 per l'istituto professionale e commerciale Branca infine 24 classi dell'istituto alberghiero rimarranno nella sede tra il primo piano e il piano terra e inizieranno le lezioni il 5 ottobre rimaniamo in tema di scuola per chi ha pochi giorni dell'avvio delle lezioni sono nate delle polemiche sull'aumento delle tariffe del trasporto pubblico regionale su questo tema è intervenuto l'esponente di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli che criticando la giunta Ciriscioli mette in evidenza che un abbonamento per il bus per uno studente che da Pergola si reca a studiare a Fano avrà un rincaro di ben 60 euro passando da 630 a 688 euro annui uno studente che da Urbino ha scelto di studiare a Pesaro vedrà invece passare l'abbonamento da 595 a 653 euro non si tratta di un aumento di qualche centesimo ha detto Baldelli ma di una vera stangata che ricadrà pesantemente anche sulle famiglie della provincia di Pesaro e Urbino soprattutto su quelle che abitano nelle aree interne e torniamo a parlare di rimozione dell'amianto perché questo importante intervento non verrà effettuato soltanto nelle scuole ma anche in altri immobili comunali sentiamo la giunta fanese ha approvato tre progetti esecutivi per le bonifiche dell'amianto negli immobili comunali che riguardano alcune scuole dove verranno rimossi piccoli manufatti per una spesa complessiva di 21 mila euro la demolizione e lo smantimento dei materiali all'ex mattatoio per un importo di 300 mila euro e 53 interventi in vari fabbricati come nei depositi comunali negli impianti sportivi negli orti per anziani e nelle case coloniche per questo ultimo progetto sono previsti due lotti di lavori il primo da 130 mila euro mentre il secondo da 270 mila devo ringraziare il settore per la prontezza della progettazione gli avvisi di interesse sono stati già pubblicati e si chiuderanno anche alcune situazioni adesso sostanzialmente noi abbiamo l'obbligo e quindi puntiamo e conseguiremo questo obiettivo di fare i lavori e di pagarli una volta già chiusi e collaudati entro l'anno il luogotenente Giuseppe Zocchi ha lasciato il comando della stazione Carabinieri di Gabice Mare per assumere il comando della stazione Carabinieri di Marotta sostituisce il luogotenente Antonino Barrasso che nel frattempo ha assunto il comando della stazione Carabinieri di Fano e adesso ci occupiamo del porto di Fano perché questa mattina durante una conferenza stampa è stato presentato tutto il progetto che verrà realizzato da Marina Group il consorzio che gestirà il futuro polo della pesca e della cantieristica Nuovo look per il porto di Fano che in poco tempo cambierà completamente il suo aspetto dopo l'avvio del cantiere per la strada che condurrà a Marina di Cesare il presidente di Marina Group Federico Giommi e l'architetto Pierluigi Floris hanno illustrato l'intero progetto che dopo un lungo iter burocratico prenderà vita a Sassonia di Fano abbiamo iniziato il cantiere i primi di agosto ma in realtà le opere sono iniziate i primi di settembre proprio per evitare diciamo di disturbare la stagione baldeare nel mese di agosto a progetto i lavori dovrebbero terminare entro nove mesi confidiamo nel fatto di poter terminare anche in un tempo più breve quindi comunque per la primavera prossima tutto dovrebbe essere completato quali sono i lavori complessivi previsti allora i lavori complessivi previsti in questo momento sono quelli delle opere di urbanizzazione per intenderci guardando la perimetria sono quelli riquadrati dal retino giallo che prevede l'inizio della strada dall'attuale collegamento lato extabulario che poi con una rotonda arriva sulla perimetrale lato Sassonia per ricollegarsi ai parcheggi attuali del Marina dei Cesari le opere di urbanizzazione comprendono quindi l'impianto stradale ma anche tutti i sottoservizi quindi impianti fognari acquedotto gas telecom e quant'altro poi ci saranno dei lavori che verranno effettuati invece sulla passeggiata dell'esipo esatto a seguire le opere di urbanizzazione strada vera e propria si attiverà invece un sistema d'arredo che in qualche maniera dovrà ingentilire quella che è la passeggiata dell'esipo tramite delle alberature d'alto fusto e un sistema di rampicanti nonché la realizzazione di alcune terrazze che sono delle piccole piazzole che allargeranno la passeggiata lato mare e quindi dei luoghi di sosta e di contemplazione di quella che è la natura marina per intenderci dopo la realizzazione di queste opere verranno edificati i capannoni divisi in un polo produttivo legato all'attività della pesca e filiera e uno a quelle della cantieristica si pensa inoltre alla possibilità un domani di pedonalizzare il porto creando una continuità fra Lido e Sassonia soddisfatto il sindaco di Fano Massimo Seri che ha sottolineato l'importanza dell'intero intervento come una risposta al tessuto economico e produttivo della città questa è una prima tappa di un percorso che andrà a qualificare completamente nelle sue varianti il porto un porto che ha la pesca la cantieristica e il porto turistico tre potenzialità che si traducono poi anche in posti di lavoro in economia che gira e quindi come sindaco non posso che essere soddisfatto l'impostazione che ho dovuto sempre dare è quella fare squadra tra pubblico e privato e questi sono i risultati a questi poi aggiungeremo anche i risultati con il tragaggio che a giorni partirà ad intervenire oggi è stato anche l'ex presidente del gruppo Massimo Minnella che ha definito l'iter un vero e proprio calvario burocratico che la società ha dovuto subire che spesso secondo Minnella ha prestato il fianco a qualche strumentalizzazione di quei soggetti che non erano favorevoli o che avevano interessi diversi all'interno del porto oggi ha detto orgoglioso è stata data finalmente una risposta a quest'area produttiva sulla quale tanti imprenditori non hanno mai smesso di credere siamo grati sia all'amministrazione che ha dato un input di accelerazione alla definizione di questa fase di progetto sia a quegli imprenditori che hanno tenuto duro e sono rimasti fedeli al progetto iniziale e quelli che stanno addirittura facendo programmi di potenziamento quindi questa è l'ultima carta che ci giochiamo per trattenere a Fano investimenti importanti nel settore della nautica il vice presidente di Marina Group invece Tonino Giardini oltre a porre il problema del futuro del laboratorio di biologia marina visto che l'università di Bologna intende trasferire tutto a Ravenna considera questa grande opera un'importante occasione per il rilancio del settore della pesca a Fano queste strutture potrebbero essere il rilancio perché ci darebbero la possibilità di creare opifici all'interno dei quali si possono strutturare attività di servizio di lavorazione e di venire incontro alle nuove esigenze dei consumatori di pesce che non sono più quelle di 30-40 anni fa un rilancio va fatto noi crediamo molto sul mercato poco sarà quello che preleveremo dal mare sempre meno forse ma lo dovremmo valorizzare e di porto di sanità e di infrastrutture se ne è parlato oggi anche in un incontro tra il sindaco Seri e i neoconsiglieri regionali eletti a Fano e nel comprensorio hanno aderito all'invito Renato Claudio Minardi Boris Rapa e Federico Talè mentre Mirko Carloni non era presente per motivi familiari l'impegno che mi hanno assicurato i consiglieri ha detto Seri lascia ben sperare che il nostro territorio possa avere in regione un ruolo da protagonista rispetto a quello marginale avuto in questi ultimi anni e torniamo a parlare di ambito sociale territoriale 6 perché l'assessore ai servizi sociali Marina Barniesi ha voluto fare alcune precisazioni sentite tutta questa partita diciamo si affaccia a livello amministrativo già dal mese di aprile maggio con le prime rilevazioni fatte dagli organismi di controllo interno che prendono atto di problematiche relative agli atti amministrativi dell'ambito dopodiché inizia una valutazione fatta insieme al comitato dei sindaci siamo arrivati oggi a questa misura a conclusione di un procedimento disciplinare quello che mi colpisce molto sfavorevolmente è l'atteggiamento di alcune forze politiche in particolare del Movimento 5 Stelle che si arroga il merito di un percorso che era già avviato senza tener conto della necessità nel rispetto della discrezionalità della persona coinvolta proprio di fronte alla incertezza ancora della veridicità di alcuni fatti l'amministrazione ha fatto un'operazione importante dove la politica e la tecnica cioè la parte amministrativa dirigenziale ha svolto correttamente il suo ruolo noi lo abbiamo consentito e quindi diciamo non potevamo andare in tempi diversi il fatto di non averlo comunicato precocemente alla stampa è stato un atto dovuto nel rispetto della lavoratrice e nel momento in cui abbiamo capito che c'erano gli estremi lo abbiamo fatto e d'altra parte i grillini continuano invece ad addossare le colpe proprio alla politica locale e regionale un caso che porteranno anche in Parlamento se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle l'amministrazione di Fano non avrebbe mai tirato fuori questa questione l'avrebbe insabbiata i cittadini sarebbero sempre stati all'oscuro di tutto è soltanto con un'interrogazione di tre mesi fa che i cittadini sono venuti a conoscenza che qualcosa non andava nell'ambito sociale nella zona di Fano e ci sono venuti tre mesi a questa amministrazione per indicare qualche minima responsabilità se l'amministrazione oggi viene a dire a noi e ai cittadini che loro hanno fatto tutto il possibile mi pare che sia evidente che se ci vogliono tre mesi per trovare soltanto una persona un caprio ispiratorio da allontanare dal servizio significa che per tre mesi si è temporeggiato si è atteso che qualcosa si mettesse a posto da solo ecco ora che cosa si delinea che cosa si prospetta per le persone che hanno bisogno di questi fondi è evidente che questa è una risposta che deve dare la politica e deve dare l'amministrazione ed è per questo che la politica ha una grossa responsabilità queste responsabilità politiche vanno trovate nella nomina della stessa dottoressa Battistini che è venuta poco più di un anno fa e ricordiamo che la dottoressa ricopre questo ruolo di dirigente d'ambito dal 2008 quindi c'è da chiedersi se queste irregolarità che sono state accertate a partire dalla fine del 2013 possano risalire anche a tempi precedenti nel senso la dottoressa Battistini ha sempre operato in questo modo quindi se l'ho fatto da quanti anni e soprattutto l'ha fatta in solitario c'è qualcuno che sapeva è la punta di un iceberg o ha operato da sola comunque voi ribadite la paternità di questa iniziativa che è sfociata poi nelle dimissioni sì nel senso che la città fino a poco tempo fa non sapeva neanche che cosa fosse un ambito territoriale se ne è cominciato a parlare con le nostre prime interrogazioni che sono del giugno scorso tra l'altro ci preme sottolineare che noi stessi abbiamo fatto un esposto a firma mia e dei miei colleghi del Movimento 5 Stelle gli esposti partiti dal comune sono tutti a firma dei dirigenti non del sindaco e dell'assessore quindi le parti politiche non si sono messe in gioco così come l'abbiamo fatto noi per fare chiarezza ma è stato fatto internamente perché la legge lo impone la legge anticorruzione quindi non si poteva fare altrimenti e mentre i grillini tenevano questa conferenza stampa nel frattempo si è riunito il comitato dei sindaci dell'ambito territoriale sociale 6 è stato un incontro lungo ma sereno ha detto l'assessore Barnesi abbiamo deciso di sostituire in modo provvisorio la coordinatrice prima dell'avvio del bando che sarà pubblicato la prossima settimana ancora non è stato fatto un nome ma verranno presi in considerazione i coordinatori e i dirigenti degli ambiti limitrofi cambiamo di nuovo argomento e torniamo a parlare dell'affanno grosseto perché dopo l'accordo raggiunto al ministero delle infrastrutture di realizzare l'opera entro il 2020 arriva una critica da parte del consigliere regionale Mirko Carloni sulla Fano Grosseto servono risorse certe non impegni sulla carta per questo serve l'inserimento nella legge di stabilità altrimenti sarà prevista nel libro dei sogni ANAS delle opere mai realizzate è la critica avanzata dal consigliere regionale di area popolare Mirko Carloni dopo l'annuncio del presidente Ceriscioli sull'accordo raggiunto al ministero delle infrastrutture in base al quale ANAS progetterà il nuovo tracciato e investirà le risorse per realizzarlo entro il 2020 intanto è stato smontato il lavoro di 10 anni un progetto già in qualche modo avvallato dall'ANAS e il contratto di disponibilità per realizzare un'opera che costava 2,9 miliardi di euro questa scelta politica fatta un po' corleggero secondo me in modo irresponsabile perché prevede oggi una nuova programmazione una nuova progettazione e soprattutto quello che non capisco è tutta questa euforia e soddisfazione per aver tolto un'opera strategica per il nostro territorio e averla messa nel libro dei sogni perché bisogna dirlo chiaramente ai cittadini il piano quinquennale dell'ANAS è il libro dei sogni parlano di un miliardo da trovare per fare dei correttivi è un nuovo progetto quindi si ricomincia tutto da capo dopo 20 anni che questo territorio aspetta che sia conclusa la Fano Grosseto ora si rimette tutto in discussione con anche un certo entusiasmo che io sinceramente non capisco e nell'ultima seduta del consiglio comunale di Fano diversi sono stati gli argomenti trattati fra i più importanti l'approvazione del nuovo regolamento ISEE che porterà a geolazioni economiche da alcune famiglie e la delibera per ottenere a titolo gratuito dal demanio l'area del campo d'avviazione ci consentirà già dai prossimi giorni quindi dall'avvio dell'anno scolastico lunedì 14 di poter garantire agli studenti e alle famiglie di Fano una serie di importanti agevolazioni sia per quanto riguarda i servizi diretta di rifezione scolastica di trasporto scolastico ma anche soprattutto una serie di elementi di facilitazioni che in questo momento di crisi sono assolutamente necessarie il passaggio è stato reso necessario non solo per quelle che sono le disposizioni di legge ma anche perché il regolamento ISEE dei servizi educativi risale al 2002 e oggi abbiamo l'esigenza di aggiornare quel regolamento quell'impianto tarifario di renderlo il più possibile è aderente alle esigenze di un'utenza che è cambiata nelle caratteristiche e nei suoi bisogni invece per quanto riguarda il parco urbano? Per quanto riguarda il parco urbano ieri c'è stato finalmente questo passaggio molto importante per cui il Consiglio Comunale ha deliberato le condizioni in base alle quali il Comune di Fano si rende disponibile ad accettare da parte del demagno statale tutta l'area su cui dovrà sorgere il nuovo parco urbano abbiamo anche espresso una serie di impegni molto concreti già a partire dai prossimi mesi a partire dalla variante che cancellerà la cosiddetta strada mazzaparco e soprattutto l'avvio di quel tavolo tecnico che insieme alla Commissione Urbanistica e Ambiente dovrà nei prossimi mesi strutturare il progetto del professor Salvitano e quindi iniziare a realizzare per stralci a partire già dal 2016 il parco urbano che noi immaginiamo non solo come un grande polmone verde per la nostra città ma anche come uno spazio di socialità di cui Fano ha veramente bisogno e sempre in consiglio comunale è stato votato all'unanimità all'ordine del giorno della maggioranza sull'acqua pubblica un grande risultato nell'interesse della città di Fano a difesa dell'acqua pubblica è stato conseguito durante la seduta del consiglio comunale del 9 settembre scorso nel quale l'ordine del giorno della maggioranza è stato votato all'unanimità il documento era a firma dei consiglieri Bacchiocchi Fulvi Cucchiarini del PD e Luzzi di Sinistra Unita questo documento insiste su alcuni punti molto importanti che sono prima di tutto l'acqua è un bene comune e deve essere pubblica al 100% in giusta considerazione sia del referendum del 2011 che dello stesso codice civile poi il secondo aspetto molto importante è che il Fano chiede che il servizio sia in house con un'azienda pubblica al 100% dopodiché si insiste anche sulla autonomia della scelta del proprio gestore da parte dei comuni e si chiede alla Regione una maggior partecipazione nei processi appunto gestionali e decisivi da parte dei comuni fondamentale come sottolineano gli stessi consiglieri è stato l'intervento del sindaco seri non è stato un risultato scontato perché abbiamo riscontrato molte resistenze soprattutto da parte del gruppo 5 stelle dove in qualche maniera ha ostacolato per ben due mesi la realizzazione di questo documento speravo sinceramente di poterlo tenere senza l'intervento del sindaco perché in numerose commissioni anche in consiglio comunale ci eravamo dati l'impegno di raggiungere un documento unitario così non è stato c'è avuto l'intervento del sindaco però alla fine abbiamo ottenuto ciò che volevamo era il nostro documento che venisse approvato e così è stato e ultimati lavori di restauro la chiesa di Sant'Arcangelo riapre al pubblico questa sera venerdì alle ore 21 e 15 ospitando per l'occasione uno degli appuntamenti della 42esima edizione dell'incontro internazionale polifonico città di Fano saranno presenti il vescovo Trasarti il sindaco Seri il responsabile diocesano beni culturali Marco Boschini ma anche il coro giovanile delle Marche il quinto elemento da Prato e il quarto Naldalla Germania saranno importanti occasioni sia per il variegato programma proposto dall'incontro attraverso il singolare accostamento delle tre corali sia per poter ammirare in questa chiesa piccolo gioiello del centro storico il bella fresco del soffitto del pittore fanese Sebastiano Ceccarini raffigurante la cacciata del demonio da parte di San Michele Arcangelo a Lido di Fano prosegue invece il festival internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce e oggi è stata la volta della giornata internazionale ma per saperne di più colleghiamoci con Lino Balestra che vediamo già pronto nel fulcro dell'evento e quindi nel palco centrale del Lido Lino come sta procedendo la serata? Sì buonasera Simona e buonasera a tutti i telespettatori noi siamo a ridosso del palco centrale dove avvengono praticamente tutti gli eventi salienti di questo festival internazionale del brodetto delle zuppe di pesce oltre che nel palabrodetto dove ci sono gli show cooking oggi era la giornata dell'internazionalità come hai detto tu alle nostre spalle sentite gli amici di Radio 2 di Decanter che sono in onda insieme a noi in questo momento e la giornata internazionale è stata celebrata anche con un convegno importante oggi pomeriggio dove si è parlato appunto della macro regione Adriatico Ionica come possibilità di sviluppo per tutto il comparto della pesca e del mondo economico che ci gira attorno accanto a me c'è Tarcisio Porto presidente del GAC Marche Nord gruppo di azione costiera questo vuol dire GAC e naturalmente al quale chiedo una battuta flash su questo momento di approfondimento delle tematiche legate al mare che col brodetto ci hanno a che fare in maniera insomma fitta certo ma noi siamo un'agenzia di sviluppo per rafforzare i rapporti tra le due sponde dell'Adriatico sostanzialmente e eroghiamo risorse europee perché abbiamo vinto un bando con l'Unione Europea e ci apprestiamo a erogare circa due milioni e mezzo di euro fino al 2020 al settore della pesca ma anche all'ambiente costiero si parla di competitività del settore della pesca e del turismo si parla di sostenibilità dell'ambiente marino il mare Adriatico è un mare piccolo ma molto ricco dal punto di vista dei nutrienti e dal punto di vista delle specie ittiche è veramente molto importante la marineria che si sviluppa in tutto l'Adriatico è più importante della marineria siciliana o calabrese per capirci quindi è una forte identità su cui noi lavoriamo come agenzia appunto di sviluppo un'opportunità per diciamo così le crisi strutturali del mondo della pesca ma anche per migliorare la conoscenza con l'altra sponda dell'Adriatico faccio l'esempio stiamo cercando di ottimizzare con la macro regione il cosiddetto fermo pesca in modo da poter mangiare anche l'estate sempre il pesce fresco e dare un'identità al turismo che sia concreta ecco quindi una mano economica attraverso un concetto di sostenibilità un po' più ampio ecco sostenibilità la macro regione Adriatico Ionica annovera 8 8 nazioni e un bacino di 70 milioni di cittadini quindi è una importante possibilità di sviluppo economico per tutto il nostro bacino ma guardate i fondi che arriveranno in tutta l'area dalla Sicilia fino alla Grecia sono circa 120 miliardi di euro allora noi dovremmo veramente insieme a chi lo sta già facendo sulla cooperazione noi per il ramo dello sviluppo diciamo della sostenibilità della pesca lavorare per far diventare quest'area un valore aggiunto per le diciamo così regioni frontaliere e non subire soltanto le tematiche che vanno di moda oggi in modo spicciolo e demagogico a volte sul problema dello scambio tra persone perché se scambio deve essere è anche scambio di conoscenze valori insomma ecco va bene allora per darvi anche la dimensione enogastronomica di questa giornata vi dico che per celebrare l'internazionalità si è dato vita anche alla gara internazionale delle zuppe e dei brodetti e quindi hanno partecipato e parteciperanno anche questa sera le due delegazioni Italia Croazia Albania e Montenegro che si disputeranno questa gara a suon di pesci bene io vi ringrazio per il collegamento è tutto dal Lido di Fano per il festival internazionale del brodetto e delle zuppe di pesce restituisco la linea allo studio bene grazie a Lino Balestra e al suo ospite adesso passiamo allo sport perché si è subito aperto con un successo la nuova stagione della Flaminia Fano trionfatrice della Supercoppa Marche di calcio a 5 femminile partenza col botto dunque per la compagine fanese di Paolo Albanesi capace di farsi trovare pronta l'appuntamento contro la polisportiva Filottrano fame e determinazione e voglia di vincere sono stati gli ingredienti che hanno portato la Flaminia a vincere per 4 a 0 e a raggiungere un altro importante traguardo quindi complimenti alle ragazze biancazzurre che stiamo vedendo in queste immagini e ovviamente complimenti anche a mister Albanesi sabato sera invece nell'area sportiva di Colombarone a Pesaro si svolgerà alle ore 14 e 30 il torneo di calcio a 5 quarto Memorial Romolo Spezzi e Ivan Gennarelli a sfidarsi saranno 4 squadre riservate a compagini composte da appartenenti della polizia e sono la questura la squadra volante l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e la polstrada di Fano insieme al commissariato di Fano vincitore della scorsa edizione ebbene con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata grazie a tutti grazie a tutti